Oltre l'eroe Beh, come puoi immaginare siamo stati abbastanza impegnati Dopo la sconfitta di Drek ci sono state parate, conferenze stampa, balli eleganti Dimentichi le grigliate d'al? Oh sì, anche quelle Poi però la situazione ha cominciato a calmarsi e noi... beh... C'è stata la grande apertura a Groovy Lube Vero Cos'era? Settimana scorsa? Precisamente sei mesi fa Siamo ancora abbastanza occupati in un modo... più domestico Sì, ieri ho gettato nel water il nucleo del radiatore Credo che questo non interessi a nessuno Miss Nudelbottom, ho trovato il nostro uomo! Benvenuti! Cosa di... Sono Overcrom di Fismicet, fondatore dell'industria Megacorp nella galassia Vogon Vogon? Mi dispiace districarmi ma la nostra intera galassia è in una situazione molto precoce Devo gentilmente richiedere il vostro sostentamento in una missione d'estrema urgenza Una missione di superfluo pericolo Una missione di incontriente difficoltà Non capisco cosa stia dicello E quindi... ha bisogno di me per una missione pericolosa in un'altra galassia? Indubbiamente... Qualche giorno fa un nostro esperimento biologico, assolutamente top secret È stato rubato dal nostro lavatoio da un pazzoso genio criminale sconosciuto E io ho bisogno di riavere questo esperimento Ci pensiamo noi! Noi? Hai detto? Sai Crank? Ho precipitato i tuoi dubbi Ho preparato una sorpresa per te Siamo pronti a offrirti un posto di lavoro come capo contabile nella Medacorp Oltre a un bellissimo antico a Menapolis Che è una vostra eccezionale massazzatrice robotica Accetto Per quanto ti riguarda Ratchet mi servi in forma smagliosa Mentre viaggerai verso la galassia Bogon Sarai addestrato nelle arti marziali Nell'uso delle armi pesanti Seguirai in corsi di sopravvivenza Nibili di The Tior I macramenti Malo e Tiorita L'uomo Il mito La leggenda Il perdente Il capitano Quark Un tempo idolo delle folle della galassia Ha ormai toccato il fondo Dopo essere stato umiliato da Ratchet e Clank Quark ha iniziato a vendere oggetti scadenti Spacciandoli per prodotti Gacetron Ma un difetto in uno dei suoi prodotti L'igienizzatore Ha provocato lesioni a parti sensibili del corpo Svelando alle autorità la truffa organizzata da Quark Oltre l'eroe Tornerà a voi dopo la pubblicità Per un attimo ci hai fatto spaventare Pensi anche tu Che dovremmo fermarlo? Non ne vale la pena Abbiamo ciò che volevamo Riportiamo questo piccoletto a Fizzuidget Ratchet Spank Siate voi? Missione conclusa signore L'esperimento è al sicuro nelle nostre mani Ma è fantasticoso Assolutamente magnifico Siete una squadra davvero extravigliosa Lieti di averla aiutata signore? Ci servono le coordinate del prossimo punto d'incontro Ovviamente Sto per fare un tour del sito minerario Megacorp Guarda c'è il dottor Fizzuidget Ma che cosa è successo? Ma tutto bene C'erano solo dei detriti sul modulo d'atterraggio Quella era la nostra nave Eh non preoccuparti per i danni Tanto è assicurata Allora avete portato tutta la mia merce? Fantastiglioso Venite con me Abbiamo veramente poco tempo Sedetevi e rilassatevi ragazzi Che ne dite di ascoltare un po' di musica? L'ha fatto apposta ci giurerei No Ha soltanto un tantino distratto Sì va bene Va bene Forza Clank Vediamo di trovare un modo per uscire da qui Bentornati a Oltre l'eroe Come dicevo altri problemi colpirono il capitano Quark Quando la corte galattica Gli impose di pagare 6 miliardi di Volt Come risarcimento ai cittadini colpiti Dalla sindrome da igienizzatore Due giorni dopo la sentenza Arrestarono Quark Mentre cercava di fuggire a pochi tardi Il grande eroe di un tempo Diventò una nullità E fu posto sotto sorveglianza In attesa di giudizio Il giorno dopo la sentenza Venne scoperta la sua fuga Si era truffato verso la libertà Ma torneremo insieme a Oltre l'eroe Dopo la pubblicità Rapporto del dottor James T. Fullbloodder Sull'esperimento Megacorp numero 13 Questo potenziamento è top secret Se stai guardando ora sei licenziato Inizialmente si pensava che l'esemplare in questione Fosse di natura molto docile Anche se provocato Non mostrava alcuna reazione Ma il compianto dottor Putritson Notò che i livelli di mostro propanase Nel circolo ematico dell'esperimento Stavano subendo degli evidenti cambiamenti I tentativi di neutralizzare Le tendenze violente dell'esemplare Incontrarono un successo relativo I sopravvissuti dello staff Raccomandano di distruggere subito L'esperimento Nell'impianto di eliminazione spaziale Di Megacorp Secondo i dati del computer Siamo stati i primi a vedere questa registrazione Quindi Freeswidget non lo saprà Giusto? Dobbiamo avvisarlo subito Ehi là! Dottor Freeswidget Sta bene? Signore Si faccia coraggio Abbiamo appena visto un video In cui il suo esperimento Mangiava i suoi custodi Glielo ripeto Stava mangiando i suoi custodi Oh sì Pochi grassi Gomma extra niente schizzi Dottor Freeswidget Mi ha sentito? Chiunque venga a trovarsi Vicino all'esperimento Deve agire con estrema cautela Non ho Decapitato Cosa? Oh sì sì Ho capito Agire con grande cauzione Gli esperti raccomandano L'eliminazione dell'esperimento Incontriamoci nell'impianto Di eliminazione spaziale di Megacorp Ah sì Mio facsimile di appuntamenti elettronici È protetto da sistemi di sicurezza Quindi devi usare la password Che se non sbaglio è Quartostick Sì Yuhu Va bene Inserisci la password Adesso Certo Ecco fatto Dovresti controllare quel codice Eppure ero sicuro che fosse giusto Il sistema di difesa ci sta attaccando Dobbiamo resistere finché non arriva Freeswidget Rispondete ragazzi Riuscite a sentirmi? Signore Sa che ci ha dato una password sbagliata? Implausibile A meno che Oggi è martedì o mercoledì Comunque mi dispiace di non essere giunto all'appuntamento Ma ho dovuto girare una pubblicità per la nostra fabbrica di armi Ma signore Per la pubblicità? Sono stato grande Passo e chiudo Signore aspetti Dottor Freeswidget Torni qua Forse potremmo ancora trovarlo nella fabbrica d'armi Perché Billy è triste? Ha freddo? Ha fame? O magari è... Oh no! No non lo voglio! Tanto solo No! Ecco a voi la protopet della Megatorb Il tuo bambino sprizzerà gioia quando incontrerà il nostro adorabile amico Vuoi giocare a palla? Anche il protopet Vuoi qualcuno per giocare a tocco? Vai subito dal protopet Cerchi qualcuno per giocare a guardie e ladri Aiuto! Polizia! Beh, sai chi ci vuole per te? Nel caso chiedi a Billy! Sì! Protopet di Megacorp Vai sul pianeta Boldan e ritira il tuo gratis Solo da Verkrom di Freeswidget Capitano Quark Controllo qualità sul gadget super elettro completato Il martello del potere non ha trovato difetti Ratchet di Veldin Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato Questa volta per te è la fine mio caro nemico Ti sconfiggerò nel nome di Capitano Quark Dolce morte Alla fine ci incontriamo Nobilmente sono caduto sul campo di battaglia Finiscimi, Lombax! Forza Clank, dobbiamo muoverci No, aspetta! Hai umiliato il più grande supereroe della storia, lo sai! Tu mi devi qualcosa! E che vorrebbe da noi, signori? Che ne dici di qualche gadget di Quark proveniente dalla vostra galassia? In cambio ti do quest'armatura magnetizzatrice Credo che quel macchinario sia progettato per attrarre i Bolt Cavolo! Devo portare il Capitano a casa prima che l'umidità lo danneggi Cerca di trovare qualche altra notizia sul protopet E ora, oltre l'eroe, è giunto alla conclusione della nostra serie sul Capitano Quark Poco prima di andare in onda, l'eroe fuggiasco risultò disperso da sei settimane È morto eroicamente? È stato vittima di un fan troppo zelante? O è ancora fuori da qualche parte? La galassia forse non lo saprà mai Ma per ascoltare le nostre teorie senza fondamento Restate a vedere, oltre l'eroe Qui è Darla Grecia in diretta per voi da Argon City Dove impazza la protopet mania Per coloro che hanno passato le ultime settimane nell'ipersonno Il protopet è il popolarissimo cucciolo bioprogettato di Megacorp È adorabile, addestrato e non provoca allergie Gli appassionati di questa creatura l'hanno soprannominata il compagno perfetto Considerando il prezzo particolarmente contenuto del protopet e il suo veloce ciclo di riproduzione Dentro breve tempo potrebbero esserci protopet per tutti i gusti Darla Grecia, canale 64 News Mamma, da dove vengono tutti i protopet? Beh, provengono dalla Megacorp tesoro È vero signora Robot Tutti i protopet della galassia vengono soltanto da qui Dalla nostra fabbrica Il tuo piccolo amico è estratto con grande cura dal protopet originale Ad ogni protopet viene dato un nome e un certificato di nascita del tutto personale Il nostro sistema di addestramento rende il tuo cucciolo un amico fantastico a cui vorrei bene per sempre Quindi la prossima volta che un bambino chiede Mamma, da dove vengono tutti i protopet? Rispondi pure con sicurezza Vengono solo dalla Megacorp Ecco è quella, la stanza di duplicazione del protopet Scusate in ritardo, ho avuto dei problemi con le guardie Nessun problema, appena in tempo Ok, vediamo se questo coso funziona Sembra che cerchi di dirci qualcosa Arrivederci, divertitevi con l'igienizzatore E ricordate di averlo comprato da Steve Steve McQuark, in persona Ora che ho venduto il mio milionesimo igienizzatore Posso permettermi di finanziare il ritorno del più grande supereroe di tutti i tempi Il Capitano Quark Tutto quello che devo fare è riuscire a trovare una galassia con dei nuovi fan Così potrò salvarli tutti Da un nuovo disastro Ma, ma... Signore, non riesco a capire Dottor Fizzwidget Si mette male Va bene, ma che cosa diavolo sta succedendo? Permettetemi di spiegarvi Sto per salvare la galassia dai protopet E voi state per diventare il nemico pubblico numero uno E il due? E il tre? Guardie, circondateli! Sorridete, siamo in onda Cittadini di Bogon Io sono il Capitano Quark Sono venuto qui ora nel momento più buio della storia Per far tornare a splendere la fiaccola della giustizia sulla vostra galassia La fiaccola della giustizia Come sapete, una minaccia vivente chiamata protopet è stata liberata nella vostra galassia Ma non abbiate paura perché io, il Capitano Quark, ho catturato i colpevoli Sì, onesti cittadini Questi sono gli artefici di tutto Il cervello che ha organizzato l'esperimento mortale della Megacorp E ora con questo Dan, super elettrogadget Di mia invenzione Porrò fine alla tremenda minaccia del protopet Una volta per tutte Quello è il mio elicomorf Io l'ho inventato Restate collegati, cari ascoltatori Mentre amplificherò il segnale di questo elico coso E renderò tutti i protopet della galassia completamente inerbi Ora permettetemi di dimostrare L'elicomorf funzionava o no? Direi di sì Forse posso ripararlo Avanti Clank Andiamo a riprendercelo Ci sei riuscito! Tutto a posto Questo è il vero Dottor Fiswidget Quark l'ho tenuto nascosto in un ripostiglio tutto il tempo Signori, avete la mia più grande e profonda gratitudine Non è stato nulla, si figuri Mi spiace solo di non aver recuperato l'elicomorf Giusto Quale pensi che sia il problema? Non saprei Potrebbe richiedere mesi di ricerca e... Ha messo la batteria al contrario E' proprio un imbecille fino all'ultimo Che stupido Devo soltanto amplificare l'apparecchio con i trasmettitori della Megacord Questo dovrebbe curare gli altri protopet Clank? Oh oh E' tutto ok Posso ripararla Lo prometto Allora, che cosa ti piace fare per divertirti? Oh, santo cielo Poi, cosa è successo a Quark? Ho sentito che lavorava per la Megacord Salve, siete nuovi di queste parti? Dovreste provare il nuovo Probomatic Quella piccola bellezza ti ripulisce alla grande Ho appena finito di testare il lucidatore di corpo Adesso la mia carrozzeria è morbida e lucente Senza alcun segno e senza mancature A più tardi Ci vediamo Il soggetto 23A è pregato di presentarsi subito per il test del biforcatore Beh, il dovere mi chiamo Va bene ragazzi Non troppo sento Allora, hai testato questo cosa? Oh, aspetta E' per questo che sono qui Ancora una cosa Allora, hai testato questo cosa? Allora, hai testato questo cosa? Allora, sei